e le maniari. Wolfgang Amedeus Mozart, compositore austriaco, vissuto dal 1756 al 1791, è considerato uno dei più grandi maestri dell'arte musicale. Ha composto bellissime sinfonie, imponenti opere, sonnate per pianoforte, concerti ed un superlativo rete. Maestro nella creazione di melodie creò sempre la purezza e la bellezza, raggiungendo livelli grandissimi della semplicità e la grazia delle sue composizioni. Nel brano Mozart New Look di Michele Mangani ascolteremo alcuni dei temi più belli in un arrangiamento moderno e accattivante, come La piccola serenata notturna, dal flauto magico La regina della notte e poi da Don Giovanni L'acida renda la mano e per concludere, dalle nozze di Figaro non più andrà il farfallone amoroso. Lo nascolto con la banda Città di Lendinara e direttore maestra Sandra Drago. Grazie. 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 Grazie.